Vi devo confessare un segreto, quando Davide Ballardini allenava la Lazio io non ero dispiaciuto dell'allenatore, non pensavo che fosse colpa dell'allenatore se la Lazio stava navigando in cattive acque. Ciao a tutti da Vittorio, oggi voglio parlare di Davide Ballardini perché a Genoa sta facendo qualcosa di strepitoso, credo abbia fatto 18 punti da quando ha preso il Genoa e solo la Juventus ha fatto più punti del Genoa di Davide Ballardini. Nel calcio ci sono quegli allenatori pompati, quegli allenatori che sai perché fanno male da una parte e riescono a trovare un'altra squadra subito, immediatamente, eccetera, eccetera. E poi ci sono quegli allenatori che fanno bene ma non sono pubblicizzati, probabilmente non ci hanno un bravo agente e quindi nonostante facciano bene rimangono un po' nascosti o non riescono mai ad approdare in una grande squadra. Pensate a Giampaolo, no? Giampaolo è andato al Milan, ha fatto malissimo, è stato cacciato, incredibilmente si è ritrovato al Torino, anche là ha fatto male, è stato cacciato, adesso chissà quale sarà la sua prossima tappa. Poi ci sono allenatori come Davide Ballardini che non fanno male, anzi, per le squadre che si ritrovano a gestire fanno bene e però non hanno mai la grande chance. Ecco, Davide Ballardini ha allenato la Lazio, è vero, quella Lazio andò in grande difficoltà, fu isonerato e venne al suo posto Eddie Reglia. Io anche quegli anni dissi che secondo me la colpa non era esclusivamente di Davide Ballardini. Secondo me l'errore più grave di Ballardini quell'anno fu quello di accettare di avere Ledesma fuori rosa e quello è costato tantissimo la Lazio perché nonostante estimi tantissimo Roberto Barogno, non aveva quella leadership di Cristian Ledesma. Non è un caso che appena Ledesma è tornato in rosa la Lazio ha ripreso a vincere salvandosi abbastanza agevolmente. Ecco, io ricordo a tutti che quella Lazio è stata l'unica squadra a battere una finale l'Inter di Mourinho, vi ricorderete tutti la Supercoppa. Ci riuscì con Barogno, ci riuscì con Muslera eccetera eccetera. Per cui anche la Lazio Ballardini dimostrò di avere delle qualità importanti. Con i Genoa Ballardini sta facendo benissimo. Ecco, Ballardini non è un maestro come Giampaolo, non inventa calcio come De Zerbi, no, lui fa le cose molto semplici perché nel calcio non si inventa niente, si riciclano molte cose, si migliorano alcune cose e quello è il calcio. Ecco, Davide Ballardini non si professa un maestro come Giampaolo o uno Zemaniano come De Zerbi, eppure il suo Genoa sta andando via alla grandissima. Ha superato il Napoli, con merito, ha battuto tante squadre, ha messo in difficoltà la Lazio, insomma, Ballardini sta facendo qualcosa di stratosferico con il Genoa. Non è che il Genoa gli abbia comprato Messi o Ronaldo, no, sono praticamente i stessi giocatori di prima. Semplicemente Ballardini, con intelligenza, sta rimettendo a posto le cose. Forse il Genoa è diventato solido in difesa, e davanti gioca un calcio normale, un calcio palla a terra, cercando di fare triangolazioni veloci e di sfruttare le qualità dei propri giocatori. Ecco, Mattia Destro, con Ballardini, è diventato un attaccante forte. Destro era ormai, non dico prossimo all'oblio, però era un attaccante che sembrava ormai finito. Con Ballardini è tornato a segnare. Goran Pander ha segnato una doppietta contro Napoli. Ragazzi, possiamo dire che Pander è un grandissimo giocatore, però sicuramente i suoi anni migliori sono passati, eppure è riuscito a segnare una doppietta grazie a Davide Ballardini. A mio avviso, questo allenatore merita una squadra più forte, con tutto rispetto per il Genoa. Merita di andare una big e dimostrare di che passa è fatto. Insomma, Gattuso ha fallito col Milan, sta fallendo col Napoli, perché non dare una chance a Davide Ballardini l'anno prossimo? A mio avviso, l'esperienza con la Lazio l'ho aiutata a maturare, perché come tutti, Ballardini, io l'ho detto in apertura, ha sbagliato ad accettare di avere l'Edesma fuori rosa. Secondo me è un errore che non commetterebbe mai più, e detto questo, Ballardini come allenatore è valido. Pensate che, mi ricordo che nella Lazio spostò Kolarov interno di centrocampo, una soluzione che si deve molto intelligente. Insomma, io credo che Ballardini abbia adesso il diritto, tra virgolette, di allenare una grande squadra. Quello che sta facendo al Genoa è clamoroso, il Genoa era praticamente spacciato un paio di mesi fa, adesso non solo è fuori dalla zona salvezza, ma nessuna squadra, tranne la Juve, sta facendo più punti da Genoa. E questo è veramente un capolavoro di Davide Ballardini, che, ripeto, non è pompato dai media, come Valide Zerbi, Giampaolo, eccetera, ma forse meriterebbe molto di più risalto rispetto a questi due allenatori, e ce ne sono tanti altri, onestamente, che sono stati pompati e che poi stringi stringi non portano risultati incredibili a casa. Davide Ballardini, ancora una volta, sta facendo un miracolo a Genoa, io credo che si meriti una grande squadra. Questo è il mio pensiero, qual è il vostro? Scrivetevi nei commenti qua sotto. Ciao, alla prossima! Grazie a tutti!